basta cucinare, basta cucinare, siamo usciti a prendere un aperitivo dove è meglio di qui e niente siamo venuti a fare un break qui a un grande hotel Pumori a noi piace molto, 5 stelle, qui siamo solamente in una delle sale dove c'è il bar nel lobby bar ci troviamo nel lobby bar, siamo molto contenti, stiamo bene, fuori è freddo, qua è caldo e così un bacio a tutti e buona sera l'ho già preso grazie 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 grazie